Ciao, lei è una cucciola recuperata ieri, 3 giugno, intorno alle 17.30-18. Ho chiamato la polizia locale, ma non è intervenuta. Allora l'ho presa, l'ho messa in macchina, l'ho portata alla polizia municipale, che hanno attivato qualche associazione, hanno messo le foto su Facebook per vedere se c'è un proprietario che l'ha persa, ma non sapevano dove poterle dare uno stallo. Quindi io mi sono arrangiato, l'ho portata qui e adesso è in attesa di essere portata via o in canile o, diciamo, da qualche buona anima che ha intenzione di tenerla per bene per tutta la vita. Occhi verdi, sembra un incrocio labrador. Guardate quanto è carina, è una femminuccia, avrà circa 4-5 mesi. Ciao!